Un libro per l'Europa, di Thierry Vissolvo. Il libro di questa settimana è un libro scritto da Roberto Santaniello, si intitola Capire l'Unione Europea e è stato pubblicato dal Mulino nel 2016. Allora, prima di tutto, benvenuto Roberto. Grazie. E allora, dalle discussioni che abbiamo avuto prima di questa intervista, tu dicevi che un grande problema dell'euroscetticismo deriva dal fatto che i commentatori, prima di tutto, ma anche i cittadini non capiscono e non sanno molto sull'Unione Europea e quindi i commenti sono un po'... Sì, diciamo, viene un po' meno la condizione del dibattito ben argomentato, cioè se non si sa bene di cosa si discuta, e spesso e volentieri i fatti non sono poi così raccontati chiaramente, impediscono sì a chi racconta, ma anche a chi ascolta, a chi vuole farsi un'opinione, a chi vuole essere informato ad essere quantomeno confuso. Allora, credo che da parte di tutti sarebbe utile avere un'informazione completa e adeguata rispetto a ciò che accade e si produce a Bruxelles e dall'altro le conseguenze per un paese, per una regione, per una zona. Cioè una visione un po' globale basata sul faccecchino. Una visione un po' globale e chiara che ci aiuti a capire, costato che questo spesso e volentieri non avviene e i motivi mi sono a volte un po' oscuri. Diciamo che l'Europa e tutto il suo apparatus legislativo, le sue istituzioni, è a volte anche un po' oscuro. Ma è meno difficile di quello che si crede. Ma è per questo che hai voluto scrivere questo, che tra l'altro è pubblicato nella serie dei manuali di Il Mulino. Ma allora, è un manuale per studenti o è un racconto per spiegare un po' come funziona, che cosa è, quali sono le politiche, quali sono i vantaggi? Thierry, è tutte e due. Naturalmente si dirige alle forze vive della società, in questo caso la società italiana, cioè gli studenti che si preparano alla vita adulta e lavorativa. Ma si rivolge anche a chi è incuriosito e ha voglia di capire come funziona l'Unione Europea. Questo è un po' la mia ambizione. Capirla un po' meglio, continuando ad amarla. Perché oggi, non ci nascondiamo, ne abbiamo parlato in precedenza, non è che siamo proprio... è un'idea che viene molto amata. Secondo me, questo libro, con molta umiltà, cerca di far capire l'Europa che c'è, che serve, che c'è utile e che a volte è dimenticata. E che potrebbe anche essere migliorato. Esattamente. Devo dire che è molto semplice da leggere, perché non c'è troppo vocabulario tecnico e un racconto aggeore a leggere. Riconosco che avrei voluto fare di meglio, però si può sempre migliorare. Non si deve mai dire questo. Ma chi ha onestà intellettuale, sì, dovrebbe dirlo. Onestà intellettuale, appunto, perché in questo libro non fai, diciamo, un paneggerico di tutte le politiche. Spieghi anche due problemi. Il primo problema che tu stai raccontando è che la direzione che è stata scelta dai politici che hanno costruito l'Unione Europea è stata una direzione che si chiama, in termini tecnici, funzionalista. Cioè che si è lavorato più sulle politiche individualmente, sui settori, diciamo, politica industriale, politica consumatori, politica economica, eccetera, e non con una visione globale politica. Sì, tecnicamente la politica è quella che veniva chiamata dei piccoli passi. Si fa un'integrazione in un particolare settore e una volta che il successo arriva il settore ha bisogno di ampliarsi in settori adesso vicini. L'unione, il classico esempio, l'unione due canali, se gli amano i tazzi due canali è necessario fare una politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi. E così via. C'è un'espansione graduale, progressiva, su cui si è definito, su cui si è costruito il mercato. Il mercato comune. In questo modo si perde un po' la visione globale, si perde l'orientamento di futuro, l'orientamento di costruzione più globale di quello che si sta facendo. Se ti ascoltasse Jean Monnet, il tuo compatriota, o anche... Io non sono più francese, sono europeo. Tu sei europeo, però diciamo, se ti ascoltasse Jean Monnet o i padri fondatori ti direbbero che loro il disegno ce l'avevano, ce l'avevano e come. Sì, ma si è forse un po' perso in strada. Eh, si è perso in strada e quindi naturalmente dobbiamo chiederlo agli altri dirigenti che hanno... E a questo punto, appunto, questa perdita di vista, diciamo, dell'obiettivo globale, conduce a una speccia di retrogradazione, nel senso che adesso sembra che i politici non sono più in grado di fare delle politiche, ma preferiscono fare delle regole. E questo è un tema che tu fai ben vedere e notare in questo libro. Puoi spiegare un po'? Semplicemente che... Credo che il successo delle comunità europee nella visione gradualistica dei padri fondatori fosse il sapiente mix tra politiche, cioè tra capacità di mettere in campo azioni strategiche in determinati settori e con delle regole precise che riguardavano, per esempio, principi abbastanza semplici come il divieto di non discriminazione sulla base della nazionalità, sull'armonizzazione, cioè su cose, entro un po' sul tecnicismo, che però hanno aiutato la costruzione comunitaria a crescere. E soprattutto hanno aiutato i cittadini a crescere e a stare meglio. Dopodiché, diciamo, in qualche modo, diciamolo così in termini semplificanti, il primato della politica e della capacità di vedere le cose insieme è venuto meno e ha prevalso invece un approccio più legato alle regole in sé dettate dalla necessità di risolvere dei problemi impellenti, per esempio il problema delle crisi dei debiti sovrani del 2008. si sono stabilite delle regole che gli europei considerano un po' asfissianti per i vincoli che pongono ai bilanci pubblici. Senza le altre politiche che permetterebbero di compensare quello che sembrerebbe trasparire è una mancanza di visione su obiettivi globali facilmente complessi e, diciamo, facilmente intuibili da parte dell'opinione pubblica. E quindi un po' più di lungimiranza da parte dei nostri politici. Questo, diciamo, lo stai dicendo te, ma lo ribadisco anch'io, cioè credo che i padri fondatori e lo ribadisco, avevano una chiara visione politica che adesso sembrerebbe mancare e che dovrebbe invece essere nuovamente rinvigorita e in qualche modo rigenerata da parte di coloro che ci governa e tra questi anche dall'istituzione dell'Unione Europea. Ma per questo si deve capire che cosa può fare e che cosa fa l'Unione Europea e forse il tuo libro permetterebbe di rispondere. Quindi consiglio a tutti di leggere questo libro di Roberto Santaniello, Capire l'Unione Europea pubblicato da Il Murino nel 2016. Grazie Roberto. Grazie. Un'ultima battuta. Se mi permetti, continuare a amare o essere innamorato dell'Unione Europea non può che nascere da un sentimento di comprensione. Capire per amarla, continuare a amarla per capirla o capirla per continuare ad amarla. E avere anche un sentimento di solidarietà. Assolutamente. Grazie Roberto. Un libro per l'Europa di Thierry Bissol di Thierry Bissol